... Referente dell'escursione di oggi, Matteo. Ciao, buongiorno, dove andiamo oggi? Allora, qui ci troviamo a Valle Rima di Roccamandolfi e arriveremo sul Monte Miletto. Da lì vedremo tutto, se il tempo lo permette, il versante Adriatico e Terreno. Oggi un intersezionale... Sì, con Fara San Martino, invitati da Titti, che era referente di Sernia. Siamo un bel gruppo numeroso, speriamo che vada tutto bene. Va benissimo. Qualche giorno fa abbiamo perso il nostro soggio, tragicamente scomparsi. Volevo ricordarlo con un mudo di silenzio. Grazie. Diamo il benvenuto agli amici di Fara San Martino. Dico io. Regimi della Maiella. Dico io. bella escursione. Sì, siamo all'inizio però. Siamo all'inizio, sì. E un ricordo va a Mario, già Michele qui. Momento molto commuovente. Ci dispiace che non sia più con noi. Sì, siamo all'inizio. Sì, siamo all'inizio. Sì, siamo all'inizio. Grazie a tutti Saluto tutti i naturalisti, maggiormente una nuova conoscente Se si avvicina, come ti chiami? Roberta Di dove sei? Villa Scontrone Villa Scontrone, oggi abbiamo fatto un gemellaggio dai, con gli amici ugini, Abruzzini Verso il Monte Miletto una piccola segnalazione L'immondizia Ne è pieno quest'angolo qui Tutta roba abbastanza stagionata Guardate qui, addirittura una lattina dell'olio Bottiglie incastrate Guardate che ci sta qua Pesava troppo a riportarsi Guardate qui, addirittura Prima spolverata di neve questa notte Altro reperto archeologico Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No, 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 no Just be you and me together Don't let me lose hope Don't leave me here forever Don't let me be alone Just be you and me together Don't let me lose hope Don't let me lose hope Don't let me lose hope Grazie a tutti